Un solo risultato per centrare la promozione, devono vincere, non hanno alternative. Cross in mezzo, Marchisio ed è gol! Rete! Questo gol era ciò di cui avevano bisogno, anche se potrebbe non bastare per chiudere qui la gara e per dar loro i tre punti necessari per la promozione. Luigi manca ancora molto, quindi potrebbero anche decidere di rintanarsi nella propria metà campo per poi colpire di rimessa, in ogni caso...